Adesso facciamo la presa incrociata Oh, c***o, questa stituta Eccolo E via No Volato E via Vedete l'importanza di allenare la sinistra Come è 8 Apporto 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 4 5 6 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 14 15 14 15 13 14 15 14 15 15 15 15 16 20 21 21 21 21 21 Sì, sì. E' il dieci non c'è Uno, due, uno, due, uno, due, tre, quattro, e su, su, riprendo, due, a*****, davanti, uno, uno, otto, a*****, nove, e dieci. Wow. Wow.